Innanzitutto buongiorno a tutti e sicuramente l'entusiasmo non può mancare. Ho terminato il contratto con la Reggiana, ero in scadenza, mi è giunta questa chiamata, una proposta importante e cercherò di dare il mio supporto a livello personale e professionale per cui sono molto contento di tutto questo. Mi sono allenato con un preparatore atletico dal punto di vista fisico e poi con una squadra vicino al mio paese. In Friuli? Sì, vicino a Valizio. Mi chiamo una squadra? Isontina, non ho scoperto. Isontina? Sì. Grande esperienza anche in Serie B con la maglia della Pinolef, una parentesi anche in Seriana e in Cagliari, quindi hai un po' giocato in tutte le categorie professionistiche, anche con affinabilità. Sì, sì, certo, io in Seriano non ho mai giocato. Sì, ho fatto parte due anni nella Rosa del Cagliari e in B ho fatto due anni al Binolef, magari secondo un po' meno affortunato e cercherò appunto di mettere a disposizione la mia esperienza al gruppo e al mister. Il motivo per cui non mi hanno rinnovato il contratto, non lo so, può essere legato alla nuova questione riforma? Dall'età media. Sì, sicuramente molti giocatori sopra i 23-24 anni sono a casa per questo motivo. Io sinceramente non trovo giusta questa regola perché va contro la meritocrazia e la professionalità del giocatore. E anche il tuo caso? Cioè, chi avrebbe avuto il contratto se non fosse stata... Beh, non lo so, penso che comunque la Reggiana abbia fatto un discorso prevalentemente di età e di contributi a livello di Lega. A molti giocatori, diciamo, oltre a 30 anni non è stato rinnovato e purtroppo sono scelte societarie che comunque non comprendeva il progetto con la mia età.